Che è successo oggi, che siamo matematicamente retrocessi, io chiedo scusa assolutamente a tutta la piazza e a nome anche di tutta la squadra perché so il momento dei nostri tifosi, della città e c'è un grande dispiacere dentro, chiedo scusa per questo, che non ce l'ho fatta. Non ho tante parole perché mi dispiace da morire, perché mi sono legato a questa città e anzi devo ringraziare soprattutto tutte quelle persone che hanno lavorato per noi da Nicola Lautista, tutti quelli nello spogliatoio durante gli allenamenti, veramente tutta la gente che è stata carinissima, non ti ha fatto mai pensare niente e ci scusiamo anche con loro perché praticamente anche loro hanno sofferto molto questa situazione. Sono quelle annate irripetibili che però io ci ho provato, chiedo scusa se non ci sono riuscite. Io l'ho detto anche ai ragazzi perché ne parlavo anche con i ragazzi, ho detto che succedono le annate negative, ma se io dovevo scommettere su un'annata negativa del Benevento e mi dicevano che il Benevento avrà un'annata negativa, per la rosa che aveva io la vedevo a metà classifica o dall'altra parte ma mai ultima in classifica, quindi le situazioni in cui sono successe faccio fatica a trovarne una spiegazione perché è troppo eclatante. Ripeto, il Benevento un'annata negativa la doveva fare arrivando a metà classifica, ultima no, ma non posso parlare di quello che è successo prima onestamente. Per quanto riguarda Simi e Lagumina, vi assicuro, sono state delle persone che hanno capito, sono scelte, io non ce l'ho né con Lagumina né con Simi né con nessuno. È stata una scelta, avete visto, il primo giorno che sono arrivato ho fatto giocare Simi, con Teglio anche, quindi se poi i giocatori mi danno, io lavoro per il Benevento, non gioco per Simi, non gioco per Letizia, non gioco per… E quindi faccio quello che deve fare un allenatore, quando c'è una rosa di 25 giocatori deve trovare in pochissimo tempo, perché non potevo dare più tempo, vedere i pochi allenamenti fatti per poter decidere così.